L'appuntamento domani alle ore 19 nella chiesa di Santa Maria dell'Alto sulla collina storica della città. L'associazione Contatto insieme alla parrocchia di Santa Maria dell'Alto organizzano il secondo appuntamento per vivere la collina storica con la serie di eventi per l'iniziativa dal titolo Abitiamo l'Acropoli. L'evento Amando in Arte vedrà protagoniste diverse associazioni a cominciare da anime danzanti e con loro Nocte e Tempore, storie e tradizioni di Sicilia per alcune riflessioni collettive. L'appuntamento il 20 novembre, sarete sulla collina storica di Paternò, per voi è un secondo appuntamento, l'obiettivo è quello di tornare a vivere la collina e tutti i suoi monumenti. Sì, esattamente, questo è il desiderio che anime danzanti porta nel cuore, cioè la possibilità che l'acropoli diventi un luogo di incontro e noi anime danzanti abbiamo scelto l'arte, però amando attraverso l'arte. L'amore è inteso come possibilità di comprensione, condivisione e progettualità, infatti è un'iniziativa a lungo termine. Comprendendo che non è possibile sempre stare contemporaneamente insieme, ma lo spazio è per tutti, un pezzo per ciascuno. Quindi non c'è la priorità che spetta a, ma dobbiamo immaginare la possibilità che possa essere condiviso in modalità diverse e con raggruppamenti anche diversi, ma quel luogo deve essere portato alla luce. La memoria di quel luogo deve essere portata alla luce. La vostra prima iniziativa nasce subito dopo l'atto vandalico contro l'edicola votiva della Madonna delle Grazzi lì sulla scalinata. Fu un primo momento vissuto così con grande slancio. Oggi ritornate sulla collina, siete comunque aperti alle realtà del territorio. Esattamente, e ti ringrazio per averlo sottolineato. L'inizio come scintilla, come reazione. E a questo proposito però voglio dire una cosa. Anime danzanti, in collaborazioni possibili, piano piano, non desidera mettere in atto una lotta contro. Questo ci tengo tantissimo. È una lotta per, cioè quello di promuovere la forza, il potere della connessione del cuore con un linguaggio vicino all'anima, che è quello dell'arte. Noi promuoviamo inclusione, promuoviamo comprensione, condivisione, ma non a tutti i costi e non subito. Dobbiamo apprendere che è un processo lungo nel tempo e va fatto attraverso l'esperienza. Quindi sul campo, una prima volta Cristo al monte, una seconda volta, ed è stata una modalità, slancio e sono arrivati in molti. Una seconda soltanto con alcuni, ma non è per escludere altri, ma perché tutto nasce in divenire. Quindi ci apriamo la possibilità, l'idea di un pezzo per ciascuno, in maniera progettuale e soprattutto continuativa.